Quindi, come dice Schwarzenegger, mentre sei da fuori a farti un giro, divertirti quello che è, qualcuno sta lavorando solo per farti il culo. Quindi ricordatevi ragazzi che il mercato sessuale, cioè uomini e donne, che sembra molto De Filippi però fa niente, è un mercato, quindi laddove voi non siete disposti a farvi il culo, ci sarà qualcuno che magari ha più skills, più doti genetiche, più doti sociali eccetera eccetera eccetera, che è pronto a scoparsi i ragazzi come volete scoparvi. Lo sappiamo questo? Se questo video ti è piaciuto ti ricordo tre cose al volo. 1. Iscriviti al mio canale Telegrangio di Lorenzo, dove ti do informazioni che qui su YouTube non posso darti. Il link per iscriverti è gratuito e lo trovi in descrizione. 2. In descrizione trovi anche i links a tutti o quasi i miei corsi, dove ti spiego passo passo come imparare la seduzione con sistemi step by step e 3 purtroppo ai links in descrizione non trovi tutti i corsi, alcuni te li proponiamo solo se ti iscrivi alla newsletter e rimani qui solo un secondo perché ti sto per spiegare come fare. Stop, non scappare subito. Primo, ricordati di iscriverti al canale. Secondo, vuoi vedere le tecniche di attrazione usate nel mondo reale? Infatti il primo passo per imparare a ottenere più successo con le donne che ti interessano è imparare come generare una fortissima attrazione in loro e ho creato un video gratuito dove ti spiego esattamente come farlo. In questo video ti mostrerò tre tecniche di attrazione che puoi imparare a usare subito e vari filmati di ragazze approcciate per la strada con cui utilizzo queste tecniche di attrazione con successo. Quindi clicca il link a destra per accedere a questi video. Ciao da Joe di Seduzione a trazione.